Buonasera tifosi di Inter e Juve, tutto bene? L'avete aspettata tanto, avete tante cose da dirvi. Adesso ci siamo, siete comodi? Avete qualcuno dell'altra squadra accanto? Stringetegli una mano, si fa così. Adesso mettetevi sulla punta della poltrona, alzate il volume, concentratevi. Vi stiamo portando dentro, vi stiamo portando allo stadio. E' solo una partita di calcio, ma è la partita. Pronti? Si va. Come fly with me, let's float down to Peru. Come on fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly. Trova la porta del Piero, Giulio Cesar in calcio d'angolo. Once I get you up there, I'll be holding you, Sal, Jardino. All the angels cheer because we're together, weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Akapuko Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Uno a uno! Bello! Che è molonesi! Tutti sotto la doccia, finisce uno a uno tra i U e Inter, è stata una bella partita, sono due belle squadre, amici dell'Inter, amici della Juve. Se avete uno dei tifosi dell'altra squadra accanto, stringetegli la mano come all'inizio della partita. Let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. And don't tell your mama.